Siamo qui per presentare la nuova gamma delle esche dell'italianissima UCED, il marmo studiato per la pesca in fiume alle grandi trote. Le caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono dagli altri artificiali sono il peso specifico elevato e compattezza che permettono un'elevata penetrabilità in acqua. L'utilizzo. Esca studiata per la tecnica dello scrapping che consiste nel lanciare a monte rispetto alla nostra posizione di pesca e di accompagnare l'artificiale lasciandolo rasare sul fondo lungo tutta la passata. Ha ottenuto ottimi risultati anche nella pesca al black bus e ai luci. Proposto in due versioni di peso 25 grammi la più usata e 35 grammi ed in sei diverse varianti colore. Oltre al marmo la UCED propone il marmorito suo fratello minore studiato per i piccoli torrenti e la pesca della trota laghetto. La UCED offre inoltre una vasta gamma di ondulanti serie Lucky che per la loro efficacia ed estetica accattivante stanno riscuotendo grande successo tra i pescatori a spinning. Maniacale studio di fluidodinamica e ricerca ossessiva sui materiali innovativi hanno portato alla creazione dell'ondulante Lucky. Proposti in 3, 5, 8, 10, 15, 20 e 40 grammi in una vastissima gamma colori armati con componenti WMC di altissima qualità. I prodotti UCED sono realizzati interamente in Italia con l'ausilio di macchinari industriali di ultimissima generazione e con soluzioni tecniche di altissimo livello. Concediti anche tu il lusso di pescare come un'esca UCED. UCED esche bestiali per pescare come lui.